Cari fratelli e sorelle merazzurre, sono sempre Don Gigi Inter e visto che la nostra amata squadra giocherà questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, torna a leggervi la lettera al Signore nella notte tra sabato e domenica, sempre prima di coricarmi. Comunque ho preparato l'ennesima missiva al Signore, sperando che dopo le vittorie con la Sampdoria in campionato e con il Rappi Viene in Europa League ci sia nuovamente il 2 senza il 3 anche questa settimana e si vada avanti a vincere soprattutto per mantenere i cugini del pistolero Piatek, che non vuole proprio smettere di segnare, a distanza di sicurezza, mantenendo così il terzo posto che ci garantirà ampiamente la qualificazione in zona Champions League, perché sia i cuginetti che la Roma hanno vinto e il distacco adesso è veramente minimo, un solo punto sul Milan e due sulla Roma, quindi bisogna tornare a correre. Purtroppo la Roma ha vinto al 95esimo, speriamo di vincere anche noi domani non al 95esimo, perché sennò rischio un coccolone, però l'importante è tornare a casa da Firenze con i tre punti e non col bacione. Ma prima di leggervi la lettera al Signore, mi auguro che Don Mario Inter sia sempre pronto, in caso di necessità, a fare un'altra benedizione speciale per farci continuare a mantenere la rotta delle vittorie consecutive. Bene, cari fratelli e sorelle Nerazzurre, io come sempre mi tolgo il cappelluccio, lo appoggio delicatamente a terra e vado a leggervi la letterina. Dalla diciannovesima lettera del 2018-2019 di Don Gigi Inter al Signore. Cari fratelli e sorelle Nerazzurre, preghiamo nuovamente il Signore per il nostro difensore centrale Andrea Ranocchia, autore di un bellissimo gol contro Rappi in Vienna e anche di una brutta svirgolata che ha regalato una palla pericolosa ad un giocatore della squadra austriaca. Preghiamo il Signore affinché, qualora in futuro dovesse ancora essere utilizzato, non faccia più errori grossolani, ma segni nuovamente un bel gol come con gli austriaci senza fare danni in difesa. Perché altrimenti se deve segnare un gol e farcene prendere uno è meglio che stia in panchina, soprattutto in Europa dove purtroppo per il momento il gol in trasferta vale ancora doppio. Quindi capite che segnare un gol e prenderne uno è deleterio, è meglio non farli. La seconda preghiera al Signore la vorrei fare per Lautaro Martinez, che questa sera dovrà reggere nuovamente da solo tutto l'attacco nero azzurro, anche se sarà naturalmente coadiovato dai suoi compagni di reparto, però ha una grossa responsabilità, quella di non far rimpiangere Mauri Cardi in zona gol, che sarà anche un testa di quiz, ma in area di rigore sappiamo benissimo l'importanza che ha sempre avuto questo giocatore per noi. Quindi speriamo che il nostro altro argentino di scorta segni un bel gol con lo Fiorentino, anche più di uno. e vediamo cosa succederà questa sera. Quindi preghiamo nuovamente al Signore che aiuti il giovane argentino ad essere il più cattivo possibile in zona gol e a sfruttare al meglio tutte le occasioni che gli capitano e non solo la metà di esse, visto che con alcune squadre è stato molto bravo e ci ha fatto prendere tre punti e con altre, ahimè, ha sbagliato il gol che avrebbe potuto cambiare la partita. La terza preghiera al Signore non è una preghiera, ma una domanda che ho già fatto settimana scorsa e che rifaccio adesso dopo le ultime notizie che sembrano vedere l'approdo di Massa Allegri sulla panchina della nostra amata Inter su idea assoluta del nuovo dirigente, oltre al fatto che al posto di Cardi vorrebbe giocatori over 30 come Zecco Cavani con cui non puoi certo pensare al futuro. Se fossero vere queste notizie avrei nuovamente bisogno di sapere se ma il dirigente Marotta è venuto per fare il bene dell'Inter o per rovinare quel poco di buono che si sta lentamente cercando di costruire? Perché francamente se da una parte un po' di ordine e disciplina ci volevano anzi meno male che sono arrivate conteremporaneamente se vedi un giocatore o intendi vendere un giocatore di 26 anni deve prenderne uno o leggermente più giovane o di pari età ma sulla carta uguale o migliore non vai a prendere degli over 30 che ti possono fare sì bene un'annata ma poi l'anno dopo sei da capo purtroppo so che il Signore non può rispondermi ma spero che presto avrò la conferma su una delle due questioni e mi auguro non sia la seconda l'ultima preghiera al Signore la faccio per il nostro ex capitano Mauri Cardi e contemporaneamente per tutto lo spogliatoio affinché questa diatriba in stile Agamemnon e Achille spero di non aver sbagliato abbia a finire allora durante la guerra di Troia c'era di mezzo la schiava Briseide adesso c'è di mezzo Vandanara ma visto che poi ci potrebbe andare di mezzo come patro con la nostra amata Inter onde evitare questa tragedia speriamo che si riesca a raggiungere un bel compromesso anche se non storico e si possa riavere sia il nostro bomber più prolifico che mai sia un'ottima intesa e allegria di squadra come la si sta vedendo in queste partite c'è una Coppa Europea da provare a conquistare un terzo posto da conservare fino a fine campionato e non è il momento di fare i bambini come diceva Bulldozer del film lo chiamavano Bulldozer che spero che tutti i cari fratelli e sorelle nerazzurre l'abbiano visto e qualora non l'avessero visto lo vadano a vedere non sono solo le mele marce a rovinare una squadra ma anche le prime donne e quindi mi sembra che ce ne siano due di troppo una giocava adesso fa il malato immaginario e l'altra non gioca ma sta tirando troppo la corda e si sa a tirare troppo la corda finisce che si spezza e ci si fa molto ma molto male e poi si piange sul serio e non per finta ogni riferimento è puramente voluto e spero che arrivi forte e chiaro a chi di dovere bene cari fratelli e sorelle nerazzurre dopo essermi leggermente sfogato sempre con parole semplici che sperano che tocchino il cuore di chi le ascolta andiamo come sempre a recitare la preghiera che Gesù ci ha tramandato più di 2000 anni fa e che Mario Intere e io ogni settimana rifacciamo per la nostra amata squadra bene recitiamo insieme padre nostro Inter che sei nei cieli nerazzurri sia santificato il tuo nome venga al tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter se poi fosse come nel 2009-2010 sarebbe molto bello ma va bene anche uno simile per quest'anno ci accontentiamo di arrivare almeno terzi in campionato sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra ma soprattutto fai vincere l'Inter dacci oggi la nostra vittoria settimanale come è già avvenuto settimana scorsa e come deve avvenire fino al 25 marzo almeno perché bisogna continuare a vincere per mantenere inalterato il nostro vantaggio sulle inseguitrici visto che sia Roma che Milan hanno già vinto e fa in modo che la simpatica squadra del nostro S allenatore Stefano Pioli questa sera abbia le batterie scariche e le cattucce bagnate in modo che Andanovic non debba fare gli straordinari come al solito o come lo scorso anno non veniamo beffati nei minuti di recupero ma risolviamo la pratica viola entro la metà del secondo tempo ogni riferimento agli errori di Vessino e Compagnia Bella è puramente voluto e rimetti a noi i nostri tre punti come noi rimettiamo alla nostra classifica e non ci indurre in serie B ma liberaci dalla sconfitta con la Fiorentina e anche dal pareggio perché da adesso come da mia precedente richiesta almeno fino alla fine di marzo non possiamo permetterci di fare un risultato diverso dalla vittoria poi eventualmente da fine marzo e sottolineo da fine marzo possiamo fare ancora giusto un paio di pareggi basta che dopo fino alla certezza della qualificazione champion si vada via di vittoria in vittoria Amen Bene cari fratelli e sorelle nerazzurro il nostro momento di raccoglimento è finito ma come sempre vi rinnovo il consiglio che vi sto dando da alcuni mesi quindi vi riscrivo il piccolo suggerimento per evitare di farsi scappare qualche parolina poco carina o qualche imprecazione che potrebbe lenire il cuore di nostro Signore e quindi vi consiglio vivamente di usare il metodo di padre Pedro alias ma Spencer riporgi l'altra guancia che era il seguente San Camillo San Camillo fammi stare un po' tranquillo San Tommaso San Tommaso ora mi viene la mosca al naso San Clemente San Clemente fa che sia molto paziente che se perdo la pazienza devo fare penitenza vi confermo che è un metodo che è molto utile visto che a parte queste ultime due settimane nonostante che Andreva ci provi sempre con i suoi errori da cima a voi a mettermi in difficoltà l'ho dovuto usare molto ma molto spesso e anche in quantità industriale bene detto questo cari fratelli e sorelle nera azzurra io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima Amen Grazie a tutti 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 Grazie.